Che cos'è che fa dell'uomo un uomo? Le sue origini? Il modo d'inizio delle cose? O è qualcos'altro? Qualcosa difficile da descrivere? Signore e signori, ragazzi e ragazze. Vuole sapere la verità? È questa. Preparatevi perché l'avventura incomincia qui. Cos'è che fa dell'uomo un uomo? Sono le scelte che fa. È fantastico. Questo autunno un solo canale vi accompagnerà in un viaggio straordinario con il meglio dell'azione. È grande. È travolgente. È AXN. La TV in azione. Il miglior cinema d'azione. Serie emozionanti e in esclusiva, tra cui la prima visione assoluta della seconda stagione di Flashpoint. Vi colpo. Tutto può cambiare. Gente, siamo in una situazione veramente molto seria. Squadra 1, attenzione. di colpa solo vostra. Mi serve un altro po' di tempo. No, non abbiamo tempo. AXN. Secondi. Polizia, nessuno sa. Sono questo. Viglia, no! Di colpo. Tutto può cambiare. Nuovi dilemmi. Nuovi pericoli. Nuovi episodi. Flashpoint. Ed in più, l'atto finale di The Shield. In prima visione, solo su AXN. Hai lottato. A volte hai vinto. Spesso hai perso. Non è stata una battaglia. È stata una guerra. E dopo tutte le bugie, tutti gli inganni, tutti i tradimenti... Noi ci mettiamo con Amadie e assistiamo a questa guerra. Che cosa resterà? Come abbiamo fatto a perdere il controllo. The Shield. Questo autunno, AXN continua nella sua missione. Portare in TV il meglio dell'azione. Silenzio. Hai sentito la notizia? Abbiamo appena incominciato. Ma AXN non si ferma qui. Reality show pieni di adrenalina ed immagini spettacolari. E prossimamente, una produzione AXN tutta italiana con un duo comico che è una bomba. Buonasera amici e benvenuti a Torta di Riso Flabby. Il nuovo clip show di AXN nel quale potrete vedere in esclusiva i filmati più divertenti, ma non solo, anche quelli più piccanti, quelli più... hot. E qui con noi, ti piace? Sì, mi piace. Devi sentire il resto delle informazioni. No, l'ho già sistemato. No, senti qua. Senti questa. Vediamo se sono davvero i migliori. Questo autunno, AXN conferma la sua mission. Portare sullo schermo grande cinema d'azione di qualità. Questa è roba pericolosa. Ah! 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 Se sei alla ricerca di azione allo stato puro, allora AXN è il posto giusto per te. Un'incredibile serie di film che ti terranno col fiato sospeso. Che sia sul tuo computer o in TV, la destinazione per gli amanti dell'azione non può che essere AXN. Emozioni, divertimento, azione. Questo autunno solo su AXN. 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 La TV in azione. Canale Sky 120. anni è un po' di distruggi. un po' di distruggi. AXN cosa non è a 50, ?! che è l'attenzione ev layout e l'att쪽 non ha avuto a mare